è anche vero che ancora è caldo 10 gradi 10 gradi vabbè comunque sempre top sempre top ma dove vai girandolo bello e prima di amiche e amici buongiorno oh mamma mia piano che ancora con la gola non mi sono ripreso totalmente e allora buongiorno buongiorno oggi è 7 gennaio direzione Offagna Offagna sempre in provincia di Ancona questo bellissimo orgo medievale che ormai da anni ospita ha ritrovato la Pasquella la famosa Pasquella questa tradizione che va avanti da secoli si stava perdendo e per fortuna è stata ripresa da Marco Eliuba quindi un caro saluto a Marco Eliuba e quindi direzione Offagna già avevo fatto mi sembra qualche anno fa agli albori del canale quattro ruote e una cabanna avevo fatto sicuramente la Pasquella di Monsano ma mi sembra anche quella di Offagna dopo magari vado a vedere e metto anche i link a fine video nella schermata finale di questa puntata allora dicevo 10 gradi Lumi è partito al primo colpo come al solito e purtroppo avevano previsto temperature in calo drastico invece come al solito non ci acchiappano e non so com'è la situazione sui monti Sibilaini sui Sibillini avevano messo neve ieri ma ieri neve non ne ha fatta affrontiamo il salittone con grinta siamo al Aspio frazione di Osimo Ancona qua dietro esattamente qua dietro dietro al semaforo c'era il mio spacciatore di gas bombole da 10 kg dico c'era nel senso che era e adesso non è più perché come sapete tutti Lumi è gas free yeah totalmente gas free e quindi non mi serve più comprare il gas però qui era il punto diciamo con il miglior prezzo salittone di quarta siamo di quarta salittone top grande Lumi mamma mia e anche oggi ci pettiniamo domani anche oggi ci pettiniamo domani vabbè e dicevo intanto giriamo per Offagna siamo quasi arrivati tra poco si dovrebbe scorgere la rocca eccola in effetti eccola là non so se l'avete vista siamo a Offagna antico borgo medievale dove ogni anno a luglio si fanno feste medievali appunto ci sono delle ottime cantine di vini ma anche eccola là guardate che meraviglia si l'avevo fatte le riprese a Offagna perché l'avevo fatte anche col droni addirittura si 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 adesso mi ricordo mamma mia che spettacolo bellissima uno dei più bei borghi medievali d'Italia ce l'abbiamo noi nelle Marche provincia di Ancona qua intanto c'è Villa Malacari cantina buonissima bmv e adesso cerchiamo parcheggio per l'uomo sotto la rocca ok ci dovremmo essere oh ciao scusa scusa un attimo mi ero distratto siamo arrivati io e l'Umi abbiamo parcheggiato proprio sotto la rocca come al solito sbaglio obiettivo quando faccio le riprese mentre guido devo mettere questo bel grandangolare invece era impostato l'obiettivo un po' più stretto e vabbè ormai quel che è fatto è fatto vabbè allora adesso carichiamo lo zaino con l'attrezzatura farò le riprese con la reflex quindi anche qualche foto e niente siamo pronti il tempo sembra che stia reggendo siamo pronti per questa non mi ricordo che edizione della Pasquella di Offagna buongiorno ma te ria le guida ancora vi dico la Pasquella che è una tradizione è portare l'annuncio della Pasqua del Signore la manifestazione e allora siete piccoli missionari tra un bicchierino per riscaldarvi e una parolina che per le persone che incontrate buona giornata non ci vediamo a Pasquella di Offagna diciamo a Pasquella Grazie a tutti. 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 1-1. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.